Ma vi ripeto, signorina, signorina, io sono molto sensibile al vostro dolore, ma vi ho già detto che per principio non posso e non voglio mettere bocca in queste cose. Siate buona, signor, non abbandonatemi. Voi sola potete far intendere a vostro marito il male che mi fa. Mio marito sta combattendo una battaglia decisiva per il suo nome, e il mio dovere di moglie è di lasciarlo libero. Oh, 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 quanto a questo lo lasciate anche troppo libero. Cosa intendete dire? Signora, perdonatemi, ma devo dirvi che mi ha mandato via non per ragioni artistiche, ma per altre. Ma come usate? Spiegatevi. Non c'è nulla da spiegare, signora. Voi siete troppo intelligente per non capire. Troppo libero, signora, troppo libero. Buongiorno.